Da premettere che forse ero troppo piccolo e non mi aveva entusiasmato, ora dopo circa 30 anni dalla missione per salvare una nave in avaria in territorio ostile, Maverick torna da dove era iniziata la fase più splendente della propria carriera. Il primo capitolo non si tocca, però non sfigura neanche questo. Nel complesso, gran buon film.